Anche gli studenti di Alessandria manifestano, come in altre parti della provincia, d'Aquiterme, Tortona e in altre parti del mondo, per la manifestazione Fridays for the Future, iniziativa globale, iniziativa che sostiene la tutela dell'ambiente e ricorda agli uomini adulti che cosa sta succedendo al nostro pianeta. Tutto è cominciato lo scorso agosto, quando Greta Thunberg, 16 anni, si è seduta con il suo cartello scritto a mano e i volantini fatti in casa davanti al Parlamento svedese, ribadendo quasi sempre di venerdì la sua preoccupazione per il futuro del mondo e per i giovani. Te ha 13 anni, primo anno al liceo classico quadriennale, i simboli sul tuo viso che cosa rappresentano? Questi simboli rappresentano la voglia di lottare per l'ambiente, perché l'ambiente è la nostra casa, la terra è la nostra casa e quindi io ci tengo a lottare per lei, perché lotto anche per me stessa. Anita e Aurora sono due studentesse dell'Alessandrino che stanno manifestando oggi, 15 marzo, per il Fridays for Future. È un'iniziativa a livello internazionale, mobilitazione ad Alessandria, ma anche in altre zone della provincia. Il vostro sentire, il vostro credo, lo state manifestando in modo molto rispettoso e naturalmente pacifico. La nostra manifestazione è appunto pacifica, nel senso che stiamo cercando solo di far sentire la nostra voce, in quanto come studenti crediamo di avere la possibilità e il diritto di ottenere rispetto verso l'ambiente nel quale noi dovremo vivere nei prossimi anni, in tutto il futuro che ci aspetta. Inoltre siamo stati appoggiati in questa manifestazione dall'associazione del Fridays for Future di Alessandria e anche dalla Casa delle Donne e speriamo appunto con questa manifestazione di creare visibilità in tutto il Monferrato, in tutto il Piemonte e di essere d'aiuto non solo per gli studenti di Alessandria ma anche di tutto il resto della provincia. Questa è la prima tappa matutina qui in città, poi ci sarà un altro appuntamento oggi alle 17. Alle 17, sì, oggi alle 17 ci sarà un altro appuntamento in Piazza Santo Stefano, qua in Alessandria e lo possiamo denominare una biciclettata perché infatti invitiamo tutti quanti a portarsi con sé i loro mezzi di trasporto molto ecologici infatti perché non ci saranno emissioni di CO2. Facciamo il punto sulle prossime iniziative, a voi piace l'effetto sorpresa, sono giovani lo sappiamo però non finisce qui. No, non finisce qui, infatti abbiamo in mente di fare altre iniziative nelle prossime settimane e vorremmo coinvolgere soprattutto il popolo, i cittadini per creare iniziative che possano aiutare in questo caso la nostra città, Alessandria, a ripulirla ad esempio dalle schifezze che ci sono per terra e fare delle giornate soprattutto improntate su mezzi di trasporto ecologici. Jacopo, qui fra le tue mani un posacenere qui in Piazzetta della Lega? Nonostante io fumi almeno un piccolo gesto come non buttare la siga per terra può cambiare il nostro futuro.